L'Italia ha una biodiversità gastronomica unica al mondo, con il maggior numero di prodotti agroalimentari a denominazione d'origine e a denominazione geografica riconosciuti dalla comunità europea. Dietro ognuno di questi prodotti c'è una storia di cultura, tradizione e trasmissione di un sapere antico legato ai territori da conoscere e riconoscere. Il cibo e i prodotti italiani, così amati al mondo, vengono spesso imitati, ricorrendo a un uso di immagini, di colori, di riferimenti geografici che richiamano la nostra penisola. E insieme questo avviene anche attraverso l'uso di parole che sono italiane solo in apparenza. Ma che in realtà sono create all'estero per evocare i sapori unici dell'italianità. È il fenomeno detto dell'Italian sounding, che vuole richiamare la reputazione e la fama della cucina italiana nel mondo. La tecnica di formazione linguistica più diffusa è la creazione di parole macedonia, nate dalla fusione di due parole diverse, come ad esempio la burricotta, frutto dell'unione tra burrata e ricotta e la mozzafina, che combina il termine mozzarella con l'aggettivo fina, usato probabilmente come sinonimo di filante. A queste parole si è aggiunto recentemente un termine curioso, pasquattone, un incrocio tra la colomba pasquale e il panettone presente sugli scaffali dei supermercati brasiliani e non solo, che stravolge addirittura il calendario delle festività unendo in un solo dolce e in una sola parola la Pasqua al Natale. Burricotta, mozzafina e pasquattone possono essere definiti dei veri e propri pseudo italianismi, parole cioè che non esistono nello spazio linguistico italiano ma sono costruite ad hoc per sembrare italiane. Altri esempi sono tutti frutti, che indica nel mondo il gelato misto e composti di circolazione più limitata, come caffè ciao, che indica una marca di caffè tedesca e si è aggiunto a casi ben più noti come quello del freddoccino, che richiama una sorta di cappuccino freddo. Come si può notare il suono di queste parole richiama quello dei termini italiani corrispondenti, ma il prodotto al quale la parola si riferisce è spesso tutt'altro che fregiato. E così pensiamo a borgonzola, combinazione di borgo e gorgonzola, e fontiago, incrocio di fontina e asiago, che insieme a parmesan, reggianito, zottarella e altri, formano la categoria dei prodotti in assoluto più falsificati, quella di formaggi e latticini. Seguono vini come il prosec e il bordolino, sughi come l'esilarante pasta ciuta e salumi come la mortadela, spesso indicata con locuzioni che sfruttano la vaghezza del termine tipo, mortadela tipo bologna, tutti nomi che cavalcano l'onda del successo del cibo made in Italy. Tra i prodotti più imitati nel mondo troviamo anche l'olio Evo. In questo caso l'appropriazione in debita coinvolge persino il nome. Nei principali dizionari inglesi l'acronimo Evo batte infatti bandiera americana, nella forma EVU, Extra Virgin Olive Oil, mentre in Italia lo consideriamo una parola tutta nostrana, poiché indica un'eccellenza del nostro paese ed è documentata in italiano prima che nelle altre lingue. Un caso come questo mostra bene quanto conoscere e ricostruire scientificamente la storia delle parole italiane del cibo sia una delle strategie più efficaci per difendersi dai falsi alimentari e linguistici e riappropriarsi così di nomi, significati, sapori unici che costituiscono la meravigliosa tavola italiana. Grazie a tutti. Grazie a tutti.